Eccoci a una nuova puntata del Dizionario di Italiano Avanzato. La parola di questa settimana è crampo, una cosa dolorosa, brutta, pesante. Il crampo è quella contrazione muscolare, un'altra parola difficile, contrazione muscolare, improvvisa e violenta e dolorosa che ci può arrivare in qualsiasi momento in realtà, però specialmente quando siamo affaticati fisicamente. Per esempio, ho iniziato a correre la maratona ma dopo 100 metri ho avuto un crampo al polpaccio. Il polpaccio è quel muscolo posteriore della gamba sotto la coscia. Quando arriva un crampo c'è poco da fare, il crampo è molto doloroso. Bisogna allungare il muscolo per fare andare via il crampo. O si può in un certo modo prevenire facendo stretching o in italiano meglio sarebbe dire facendo riscaldamento prima dell'attività fisica. Quindi, per esempio, fare il riscaldamento prima di una partita di calcio aiuta a prevenire i crampi. E voi avete avuto recentemente qualche brutto crampo? Ai ai ai. Ci vediamo alla prossima puntata del Dizionario di Italiano Avanzato.